Secondo appuntamento ad Andrea con la settimana biblica diocesana, giunta all'undicesima edizione l'iniziativa a cura dell'ufficio catechistico diocesano verte quest'anno sul tema Giovani nella Bibbia, ospite della seconda serata, Rosanna Viorgili, docente di Sacra Scrittura all'Istituto Teologico Marchigiano che si è soffermata sulla figura dell'Apostolo Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Il Giovani come compito e come promessa è un tema molto intrigante. Sì, sono un compito in senso doppio, diciamo così, attivo e passivo. Sono un compito per i genitori, per gli educatori, per la scuola, per la chiesa. Il compito di farli crescere dando loro degli strumenti per poterlo fare, per diventare adulti, veramente. Ma è un compito anche in senso attivo rispetto ai giovani, perché la vita è un compito e non è una vacanza. E quindi c'è una chiamata proprio nei confronti dei giovani che oggi forse è piuttosto sfumata, non so come dire. La sentono poco questo aspetto, diciamo, del compito, perché essi devono portare avanti la vita nel mondo e quindi devono passare il testimone. La chiesa negli ultimi anni sembrava aver perso di vista proprio l'attenzione nei confronti dei giovani. Oggi invece è tornato prepotentemente alla ribalta questo tema. Sì, è tornato alla ribalta, ma ultimamente, credo, per il fatto del sinodo, sicuramente. Però ecco, io non credo che la chiesa abbia mai veramente abbandonato il pensiero dei giovani. Anzi, ecco, penso che dalla mia giovinezza stessa fino a quella dei miei figli, io ho visto un grande, anche, come si può dire, un pensiero, nel senso una preoccupazione da parte della chiesa per questa parte che Armando Matteo ha chiamato la parte mancante. Quindi, piuttosto, sì, abbiamo forse visto una certa fuga dei giovani dalla chiesa. Perché? Ma, così, adesso qui entrerei in una mia opinione, darei. Credo perché, intanto, la chiesa, comunque, insieme ad altre, tra virgolette, agenzie educative, ha perso la sua autorità nella nostra società occidentale. L'ha persa la famiglia, l'ha persa la scuola, l'ha persa anche la chiesa. Quindi, diciamo, è un fenomeno che va ricondotto un po' a quella che è la cultura in cui l'Occidente oggi, diciamo, è immerso. Riusciremo a fare il salto dal parlare ai giovani, dal parlare con i giovani? Eh sì, dobbiamo farlo, questo salto, nel senso che ritengo che la chiesa debba proprio cambiare il suo linguaggio. La chiesa oggi deve, assolutamente, come ha fatto nei secoli scorsi e del resto, riuscire proprio a parlare due lingue. La lingua di Dio è la lingua della civiltà dove noi ci troviamo a stare. Quindi, sicuramente, Papa Francesco è una grande luce, un grande esempio, perché lui ha fatto una grande rivoluzione che, infatti, porta i giovani vicino a lui, porta i giovani a stimare Papa Francesco e ad ascoltarlo anche quei giovani che non frequentano la chiesa, diciamo, proprio perché Papa Francesco ha dismesso volutamente un linguaggio dogmatico, un linguaggio normativo, un linguaggio fatto di precetti morali, talvolta anche moralistici, per invece usare, utilizzare, adottare un linguaggio che io chiamerei sapienziale, cioè il linguaggio della vita.